Questo video è stato prodotto da El Vega, Riccardo Zigarini, Menad, Nick Seiri, Giovanni Lanzoni, Matteo Bosi, Elia Morini, Daniele Sozzi, Andrea Aimaretti e Davide Gelmini. I miliardi di Arsène Lupin di Maurice Leblanc. Lettura di libri in pillole. Illustrazione di Lorenzo Bisogni. Musica di Zero. Capitolo IV La mafia Patricia rimase a lungo pensosa, poi mormorò come per se stessa «Dunque, la mafia contro Arsène Lupin?» Rialzò la testa e, fissando Rasvelmont, aggiunse «Probabilmente la sua conclusione è esatta». «Ne sono certo. La mafia di origine americana non limita il suo ruolo allo scopo grandioso che si sono preposti i capi, cioè la lotta contro il crimine. Vuole denaro subito. Nell'attesa propone i suoi servigi come i mercenari di un tempo, a ruola privati che vogliono esercitare una vendetta o mettersi a riparo da rappresaglie, o ancora al soldo di fazioni politiche che hanno deciso di disfarsi di un avversario qualunque. Un alto funzionario fastidioso, un generale ostile, un uomo di stato troppo energico». «Così, è questa la mafia di cui si parla tanto?» «Sì». «Ne ha la prova?» «Oh, anche lei avrebbe potuto averla, così come la polizia e tutti quanti. Sulle carte d'identità dei congiurati che ha scoperto e pubblicato c'è una M maiuscola, non è vero?» «Esatto. M è la prima lettera della parola mafia. M e A sono anche le iniziali di McCullermy e F sta per Fields. Inoltre ho saputo che l'uomo che fungeva da segretario a McCullermy, il Selvaggio, come lei lo chiama, quello che è diventato il capo della banda, si chiama Mafiano. Forse è dal nome di questo siciliano di Palermo che i dirigenti hanno preso la parola mafia. La mafia, un tempo associazione di malfattori siciliani che pretendevano di nascondere i loro crimini dietro un ideale politico. La mafia di sinistra memoria». «È la stessa mafia di cui da qualche tempo si parla molto in Francia?» «Ah, non lo so. La considero piuttosto una parola generica di sicuro effetto, che secondo me designa lo spirito del male in tutte le sue forme. Esiste una mafia mondiale alla quale si riallacciano quasi tutte le bande sparse nei diversi paesi, costituendo così una formidabile associazione che ha come scopo il furto e l'omicidio». Ma ad ogni modo noi sappiamo che a New York c'è un nucleo organizzativo, un centro di azione che si irradia fino all'Europa, opera di McCullermy e Fields, che ne ignoravano i risvolti criminali e volevano farne una forza benefica. «Secondo le mie informazioni, il nucleo centrale si divide in due gruppi, i militanti, gli agenti esecutivi alla testa dei quali opera mafiano, e un comitato di controllo e di contabilità, una specie di consiglio di amministrazione creato dai due amici, che raccoglie le quote e soprattutto ripartisce gli utili». «In genere, in questo tipo di società, le regole sono molto severe e le ripartizioni di un'assoluta scrupolosità. A ciascuno la sua parte, a seconda del grado e del numero d'ordine nella gerarchia. È come accadeva un tempo nelle associazioni dei filibustieri. Per ogni trasgressione alle leggi della probità, per ogni cedimento, un'unica punizione, la morte. E il colpevole non ha scampo, né nascondigli sicuri né travestimenti che lo proteggano. Un bel giorno scoprono il suo cadavere, trafitto da un pugnale su cui è scritta la lettera M di mafia». Prima di rispondere, Patricia rimase di nuovo in silenzio, immersa in profonde riflessioni. «D'accordo», disse alla fine. «Lei ha ragione su tutti i punti, ma se ho commesso un grave errore non decifrando il vero significato di Paul Siné, come avrei potuto sapere cosa voleva dire la lettera M e cosa c'era da temere in quell'orribile associazione? Lei deve aver ricevuto delle informazioni particolari». «Evidentemente», convenne Horace Velmont. «Ma in che modo? Da uno degli affiliati che ha tradito?» «Giusto, un vecchio complice di Arsène Lupin». «Quindi, un suo complice. Ah, lo confessi». «Se le fa piacere, anche se al momento non ha nessuna importanza. Il vecchio complice di Lupin, diventato gangster a New York, è stato arruolato da McCullermy e quando ha saputo cosa si tramava contro Arsène Lupin, è venuto ad avvertirmi. Ho subito preso la nave per New York, ho manovrato intorno a McCullermy e gli ho venduto dei documenti importanti. Dopodiché ho richiesto la mia affiliazione». «Lei fa parte della mafia?» «Ovvio! E anche del comitato superiore. Ecco la mia tessera, Paul Siné numero 11». «Stupendo!» esclamò la donna con ammirazione. «È meraviglioso e quasi incredibile per abilità e audacia». «Allora?» riprese lui. «Ha capito?» Si interruppe bruscamente, alzando la voce come se continuasse un discorso. «In breve, signorina, la baronessa, dopo aver appurato che il suo ritratto la riproduceva con i capelli rossi, mentre ora li ha platinati, l'ha rifiutato. Il pittore vuole chiamarla in giudizio, ecco come stanno le cose». Patricia lo guardò basita ed egli le sussurrò sottovoce «Calma, è sangue freddo. Non sono pazzo, ma ci stanno spiando». «Ah ah ah! Che storia divertente!» rispose Patricia con una sonora risata. «Ne conviene?» disse Velmont bisbigliandole. «Vede qui tre o quattro tipi laggiù in abito da sera, che si mescolano alla folla degli invitati e se ne distinguono per un chedilosco, di furtivo, di sinistro, emanando odore di delinquente da qui a un miglio. Le ricordano qualcosa?» «Sì», rispose la donna cercando di contenersi. «Ricordano gli individui che ho visto a New York la sera del crimine sotto i portici di Piazza della Libertà». «Senza dubbio», soggiunse Horace con calma. «Pensi quindi che l'associazione è stata fondata da undici persone. Se ne restano solo tre o quattro al momento della spartizione, otterranno tutto il bottino. Ecco perché la banda si sta sterminando a poco a poco. Attraverso eliminazioni successive rimarrà solo un complice per il regolamento dei conti e lo scioglimento definitivo, che avverrà alla fine del settembre prossimo. Ecco, guardi a destra. Riconosce quel tipo alto dalle lunghe gambe e dalle lunghe braccia? «Credo proprio di no». «Ha ballato poco fa con lui ed è stato un errore. Avrebbe dovuto rifiutare. Ah, se ne va. Ponte Amalti di Amalto, barone di Maffiano». «Il selvaggio, quindi? Uno dei complici? Quello che lei considera come il capo?» «Sì, il consigliere di fiducia di McCullermy, il suo factotum. Quello che la perseguitava nascosto nell'ombra, l'assassino di McCullermy e Frederick Fields». «E che è stato anche lui colpito nell'hotel parigino dove l'ho seguito?» «Colpito ma non ucciso. È sopravvissuto alla ferita ed è scomparso dall'ospedale prima della pubblicazione del suo articolo che rivelava il ruolo avuto fin dall'inizio e che l'avrebbe fatto arrestare». La giovane rabbrividì suo malgrado. «Non lo sapevo. Ho paura di quell'uomo. Stia in guardia, la prego». «Anche lei, Patricia, stia in guardia. Poiché è sulle sue tracce e non la mollerà mai. È un pericolo costante». Lei cercò di dominare la propria inquietudine. «Ma cosa devo temere?» «La mia stessa sorte». «Eppure non faccio parte della loro banda». «È vero, solo che lei è la nemica. Dieci minuti dopo la sua partenza da New York, lo stesso cablogramma è stato inviato a tutti gli affiliati in Europa. Patricia Johnston, segretaria, imbarcatasi per vendicare i numeri 1 e 2M. Da allora è sorvegliata e condannata. La morte è stasera la spia. Andiamocene insieme. Con me non deve temere nulla e passerà la notte a casa mia». «Sta bene». ha consentì. «Penso alla sua sicurezza quanto alla mia. Ma non mi ha forse raccontato che conoscono tutti i domicili di Lupin?» «La lista che ho fornito loro è anteriore alla morte di McCullermy. L'indirizzo attuale non è menzionato». Si alzò. «Venga, Patricia. Appoggi la testa sulla mia spalla e mi permetta di cingerle la vita in modo rispettoso. Sì, così. Andiamocene non come complici che cercano di fuggire e proteggersi, ma come due innamorati che si stringono inebriati di passione. Mi segua, Patricia. Mi segua». La donna obbedì. Si mossero a piccoli passi, stretti l'uno all'altra e guardandosi negli occhi. Si dirigevano verso l'uscita attraversando una delle zone oscure e solitarie del giardino quando davanti a loro si parò una figura maschile alta e sportiva. La mano di Horace Velmont lasciò immediatamente la vita di Patricia e rapida come un fulmine gettò sul viso del nuovo venuto il fascio di luce di una torcia elettrica. L'altra mano era pronta ad afferrarlo alla gola. Horace ebbe un riso sprezzante. «Oh, oh, oh! Chi si rivede? Amalti di Amalto, barone di Maffiano, il famoso Selvaggio. Togliti e lasciaci passare. Hai un muso che mi piacerebbe incontrare in un bosco, sai? Ma qui preferisco evitarti. Non ho voglia di essere scannato come il buon McCullermy, il tuo padrone, per non parlare del procuratore Frederick Fields. Accetta un buon consiglio, che ne dici? Lascia stare Patricia Johnston». Il malvivente, indietreggiando, rispose «Ce l'hanno segnalata da New York come pericolosa!» «Ebbene, da Parigi io te la segnalo come inoffensiva. Del resto abbiamo parlato troppo. Io l'amo e per me è sacra. non ti venga in mente di toccarla, mafiano, altrimenti...» L'uomo ruggì. «Un giorno o l'altro io te...» «Preferisco l'altro, ragazzo mio. Ah, e nel tuo interesse? Non hai speranze contro di me?» «Tu sei Arsène Lupin!» «Ragione in più per dartela a gambe. Fila, occupati della mafia di mafiano, non di noi. È più prudente, credimi». Il selvaggio esitò per un istante, poi si tuffò nell'ombra come si fosse gettato da un trampolino. Oras e Patricia lasciarono il giardino e attraversarono la vasta sala vuota. Mentre Patricia ritirava il cappotto al guardaroba, Oras si inchinò davanti alla baronessa Angelman per prendere congedo. «È bellissima la sua nuova conquista!» mormorò la baronessa, più indispettita che Beffarda. «È davvero bellissima, infatti!» riconobbe Oras seriamente. «Ma non è una conquista, è un'amica d'oltreoceano che non conosce Parigi e mi ha pregato di ricondurla a casa». «Solo? Oh, poverino, non ha proprio fortuna!» «Tutto arriva a chi sa attendere!» Oras sentenziò. Lo guardò, sussurrandogli «Mi aspetta sempre, dunque?» «Più che mai!» lui replicò. La baronessa distolse gli occhi, Patricia li stava raggiungendo. Oras riprese il braccio dell'americana e uscirono da Palazzo Angelman. Fecero pochi passi sul marciapiede e disse alla compagna «Glielo ripeto, Patricia, non trascorra la notte a casa sua». «Allora da lei?» «Sì, a casa mia. Quei balordi sono infuriati e avrebbe tutto da temere. Non indietreggiano mai». «Si fida dei domestici?» «Oh, solo una vecchia domestica, la mia balia, che mi è devota sino alla morte». «La fedele Victoire?» «Ah, mi posso fidare di lei come di me stesso. Venga». Raggiunsero la sua auto e salirono. Un quarto d'ora dopo, Oras fermò la vettura a Otei davanti al numero 23 di Avenue de Saigon, la piccola villa con cortile e giardino in cui abitava. Mentre apriva il cancello, suonò per avvertire Victoire, ma la vecchia domestica non si presentò sulla scalinata. Velmont si adombrò. «È strano. Perché Victoire non ha acceso la luce dell'ingresso e non si fa vedere? Non si addormenta mai quando sono fuori». Accese la luce e subito guardò sul tappeto della scala. «Ci sono impronte di persone. Saliamo, se la sente?» Seguito da Patricia, salì di fretta le scale fino al secondo piano e aprì una porta. Nella camera da letto, Victoire era stesa su un divano, legata e imbavagliata con una benda sugli occhi. Si precipitò a liberarla con l'aiuto di Patricia. Victoire era svenuta, ma si riprese rapidamente. «Tutto bene? Nessuna ferita?» le chiese Velmont. «No, tutto a posto». «Che cosa è successo? Ti hanno assalita? Li hai visti? Da dove sono entrati?» «Dalla sala da pranzo, immagino. Ero qui assopita, si è aperta la porta e qualcuno mi ha colpito alla testa». Horace si precipitò al piano terra. All'altro capo della sala c'era il suo ufficio. Dietro un armadio a muro c'era una scala che conduceva sottoterra fino a una porta che dava su un tunnel scavato sotto il cortile. La porta era aperta. «Maledetti!» tuonò Horace. «Mi hanno spiato! Hanno scoperto tutto! Sono avversari di peso! Non mi annoierò con loro!» Ritornò e si sedette in sala da pranzo davanti a un tavolo vicino alla finestra. Patricia l'aveva seguito lasciando in camera Victoire ancora stordita. Si sedette davanti a Horace e rimasero a lungo senza parlare. Entrambi riflettevano. infine la donna osservò «Come sperano gli adepti della mafia di depredare Arsène Lupin? Non si ruba una fortuna con uno scippo?» «Lupin ha fatto il furbo vendendo a destra e a manca tutto ciò che possedeva come documenti azioni gioielli tutto ciò ha prodotto un'ingente quantità di liquido una massa tangibile di denaro che credeva ben nascosta e che gli avversari sono sul punto di scoprire. È guerra aperta tra lui e loro». «Ah confesso che hanno degli assi nella manica tuttavia Lupin è sempre Lupin». «E Lupin è tranquillo?» «Non del tutto i nemici sono tanti astuti e non indietreggiano mai ma me l'hanno dimostrato finora inoltre hanno tutto il denaro che occorre quando sono entrati in gioco McCullermy e Frederick Fields hanno versato ciascuno centomila franchi insomma che gli altri hanno probabilmente raddoppiato grazie a una serie di affari equivoci. Infine e questa è la loro carta vincente Lupin è stanco di essere sempre sulla breccia sogna il riposo una vita tranquilla l'onestà vuole godersi la vita e il risultato dei suoi sforzi si trova nella stessa situazione dei marescialli di Francia dopo le campagne vittoriose quando la stella di Napoleone ha cominciato a impallidire è stanco». Rassevelmont si interruppe bruscamente già rimpiangendo il momento di debolezza «E' così ricco questo Lupin?» chiese con indifferenza Patricia «Beh difficile da stimare alcuni miliardi sette otto nove forse». «Interessante» «Non male gli sono costati tanta fatica che ha il diritto di tenerseli supponiamo in media dieci milioni per affare con sette ottocento affari diversi che hanno comportato combinazioni complicate spedizioni estenuanti pericoli corsi ferite ricevute lotte tremende sconfitte scoraggianti e poi gli investimenti e le speculazioni sbagliati la crisi economica senza contare i bisogni che aumentano con l'età le paghe da versare Lupin di certo non lesina in queste condizioni come pretendere che Lupin non tenga a ciò che possiede? Lupin non rispetta la proprietà altrui ma guai a toccare la sua è sacra la sola idea che qualcuno metta gli occhi sulla sua fortuna lo fa uscire dai gangheri diventa feroce curioso mormorò pensierosa Patricia non lo credevo così è un uomo e nulla di ciò che è umano gli è estraneo rispose con flemma Horace tuttavia non dovrebbe essere tanto attaccato a quello che ha rubato osservò l'americana perché rubare è più difficile che guadagnare e si rischia molto di più il possesso rende spietati più l'età avanza più questo stato d'animo peggiora Lupin possiede circa dieci miliardi come ha confessato ebbene non consiglio a nessuno di puntare al suo gruzzolo tacque ma subito riprese in un soffio appena percettibile nascondendo la bocca con la mano non faccio un gesto non dica una parola nemmeno una sillaba capisce? perfettamente rispose lei con un filo di voce che succede? con apparente disinvoltura Orassa accese una sigaretta e appoggiato allo schienale mentre osservava i cerchi di fumo azzurrognolo che volteggiavano verso il soffitto senza muovere le labbra disse qualsiasi cosa le dica non reagisca e obbedisca senza pensare è pronta lei assentì capendo che la situazione era molto grave di fronte a lei sul muro c'è uno specchio si alza un po' la testa lo specchio le rinvierà l'immagine di tutto ciò che vedo dalla finestra che ho davanti sì vedo lo specchio e la finestra il riquadro in basso a sinistra sì quello vi hanno praticato c'è un foro vede sì mi sembra di vedere qualcosa che si muove è la canna di un fucile che da fuori mi stanno puntando contro guardi le armi appese sopra lo specchio manca un fucile ad acetilene la cui detonazione non fa rumore ma chi la sta mirando probabilmente mafiano il selvaggio o un suo complice abile tiratore non si muova di un millimetro ehi patricia non vorrà svenire non c'è pericolo ma lei per me è un godimento silenzio patricia e accenda una sigaretta così il fumo nasconderà il suo pallore l'uomo la spia credendo di non essere visto ora mi ascolti lei si alzerà tranquillamente e salirà al primo piano la mia camera è sul pianerottolo proprio di fronte in camera c'è un telefono chiami il numero 17 il pronto intervento dica che mandino d'urgenza qui al 23 di avenue saigon 5 o 6 uomini sempre a voce bassa mi raccomando poi senza preoccuparsi di victoire che è al sicuro al secondo piano si chiuda a chiave chiuda le imposte di tutte le finestre barricchi la porta e non aprà nessuno a nessuno e lei chiese preoccupata patricia non dovendo più difenderla me la caverò vada patricia e a voce alta proferì amica mia ha avuto una giornata molto faticosa le consiglio di andare a dormire la mia nutrice le indicherà la sua camera ha ragione rispose pacatamente patricia sono spossata buonanotte amico mio la donna si alzò con perfetta naturalezza e uscì senza fretta dalla sala da pranzo urace velmont era contento di se stesso con la sua padronanza la sua calma davanti al pericolo aveva ristabilito agli occhi della giovane il proprio prestigio affievolito forse dalla precedente confessione si accorse che la canna del fucile si muoveva come se qualcuno la spianasse gridò su mafiano tira ragazzo mio e non sbagliare o ti brucerò quel poco di cervello che hai si tolse la giacca e offrì il petto il colpo partì senza alcun rumore velmont gemette portò la mano al petto e si accasciò sul pavimento un grido di trionfo risuonò dall'esterno la porta finestra si aprì bruscamente un uomo fece per entrare nella stanza e indietreggiò gemendo colpito alla spalla dal proiettile della pistola che velmont aveva puntato contro di lui oras si alzò in piedi sano e salvo idiota disse all'uomo perché hai staccato dalla mia panoplia un fucile munito di cartucce e sei il miglior tiratore della mafia immaginavi da quel cretino che sei che fosse sufficiente un click per farmi fuori deprecabile stupidità mi credi così idiota da offrire armi agli aggressori visto che abito in una villa isolata offro solo tubi di acciaio e cartucce cui manca l'essenziale e cosa chiese l'altro stupefatto il piombo hai sparato aria imbecille mi hai inviato aria non è così che puoi uccidermi vecchio mio mentre parlava velmont aveva staccato dalla parete un secondo fucile e si era avvicinato alla finestra seguiva con gli occhi un'ombra che si dileguava non riconoscendo da nessuna parte la sagoma di mafiano si chiese inquieto da dove diavolo può essere passato cosa ha in mente all'improvviso sentì dal primo piano un fischio stridente un richiamo che riconobbe patricia chiamava aiuto i malviventi hanno per caso scoperto l'uscita segreta della mia camera si chiese angosciato per lui l'angoscia significava azione si precipitò verso le scale e salì i gradini in tre secondi dal trambusto che sentì dietro la porta capì che la lotta era iniziata vicino all'uscita segreta che gli permetteva di entrare e uscire senza farsi vedere con furia si gettò sulla porta dentro la camera mafiano cercava di trascinare patricia nell'apertura della parete mentre nel tunnel due complici erano pronti a intervenire patricia allo stremo delle forze si difendeva appena aveva perso il fischietto d'argento e chiedeva flebilmente aiuto in quel momento si udirono le spallate di velmont contro la porta sono salva eccolo mormorò la giovane donna che riprese forza per liberarsi mafiano aumentò la stretta su di lei non è ancora detto ma la porta scricchiolava e i due complici erano fuggiti dal passaggio segreto il bandito schiumò di rabbia voglio almeno un compenso si chinò bruscamente per strapparle un bacio ma riuscì solo a sfiorarle le labbra lei si era gettata all'indietro e inorridita dall'odioso contatto gli lacerò il volto con le unghie miserabile bruto immondo ansimò lottando contro l'uomo che l'aveva di nuovo avvinghiata la porta cadde di schianto mafiano non ebbe nemmeno il tempo di vedere velmont che si scagliava contro di lui ricevette un pugno terribile al mento lasciò patricia e vacillò una serie di colpi rabbiosi lo rimise in piedi cercò di scappare ma il passaggio era chiuso allora tornò al centro della camera estrasse la pistola si sedette e disse a velmont che gli puntava il fucile a presto velmont abbassiamo le armi per il momento tipi come noi si combattono duramente senza pietà ma non si ammazzano senza una spiegazione plausibile velmont scrollò le spalle però poco fa volevi uccidermi senza spiegazioni comunque se ti diverte parliamo va bene ma cerca di essere chiaro e preciso alla festa degli angelman hai detto che reclamavi la bella patricia per te ma niente da fare non hai alcun diritto su di lei io ho i diritti che mi prendo e quelli che lei mi concede un lampo passò negli occhi del criminale mi oppongo allora rivolgiti all'ufficiale giudiziario tagliò corto velmont beffardo si usa così quando ci si oppone mafiano replicò sei pazzo rifletti la conosci soltanto da due ore e tu da quattro anni da quattro anni le giro intorno la spio la inseguo senza farmi vedere lei sapeva che lavoravo per allermi vero patricia e quante volte l'ho seguita nell'ombra perché sapeva che la amavo che la desideravo che lei era tutto per me parli bene sghignazzò velmont ma lei è tutto per te tu non sei niente per lei non è vero patricia meno di niente dichiarò la donna con disgusto visto mafiano allora sloggia e liberami il posto a te mai sei un estraneo per lei cosa ne sai della sua vita sai che è stata amata dai due mccullermy padre e figlio menti sai che è stata l'amante del figlio harry mccullermy menti è la pura verità ha avuto un figlio da lui velmont era impallidito tu menti patricia la scongiuro dice la verità dichiarò la giovane donna che detestava mentire ho un figlio un bambino di dieci anni un figlio che adoro rodolf che è tutta la mia vita tutta la mia ragione di esistere un figlio da cui non può separarsi aggiunse mafiano e che da qualche tempo ha fatto venire a parigi il tono del malfattore sembrò sospetto a velmont che chiese con una certa inquietudine a patricia dov'è il bambino al sicuro da ogni pericolo assolutamente al sicuro torni da lui patricia intimò velmont lo conduca il più lontano possibile lo porti via immediatamente mafiano soghignò troppo tardi patricia sussultò e impallidì con il terrore negli occhi che intende dire l'ho appena visto stamattina si a ghivernì nei pressi di vernon a casa di mamma vavasor torni laggiù patricia non troverà né il bambino né mamma vavasor la brava donna me l'ha portato questo pomeriggio stesso il volto di patricia si alterò lei è un vile un miserabile il bambino è delicato e ha bisogno di cure assidue avrà tutte le cure glielo giuro sarò per lui come una mamma rispose mafiano con sinistra ironia avviserò la polizia urlò patricia fuori di sé ho l'autorizzazione del padre allermi junior riceverò i complimenti dalla giustizia per aver restituito un figlio al genitore ridacchiò mafiano la ferrea mano di velmont gli stritolò la spalla prima della giustizia c'è la polizia ti arresterà e ti chiederà conto la polizia è lontana disse il bandito non quanto credi ho fatto telefonare al pronto intervento una pattuglia sarà qui in 5 minuti ascolta un suono di sirena stanno arrivando capisci la situazione manette carcere processo ghigliottina e l'arresto di arsène lupin sei pazzo arsène lupin non può essere toccato dalla polizia cosa mi offri gli domandò mafiano dopo una rapida riflessione dimmi dove si trova il bambino e ti farò fuggire dal passaggio segreto numero 2 ma spicciati le auto sono davanti a casa dov'è il bambino voglio che patricia venga con me arrangeremo le cose tra noi lei conosce le mie clausole se cede le renderò suo figlio preferisco la morte disse patricia il suono di un campanello giunse dal pian terreno eccoli esclamò velmont posando un dito su un pulsante della boiserie se lo premo apro la porta d'ingresso vuoi che lo faccia mafiano ah fai pure ma patricia non saprà più dove è suo figlio velmont schiacciò il pulsante si sentirono passi e voci di uomini al pian terreno oras si diresse alla porta per accoglierli come un fulmine mafiano saltò dalla finestra e scomparve è proprio quello che volevo soghignò velmont imbracciando il fucile che sopra la culatta aveva uno speciale meccanismo le ombre della notte si stendevano sul giardino e si prolungavano attraverso i giardini vicini velmont osservò per raggiungere la strada deserta e fuggire deve scavalcare tre muretti arrivare a un muro più alto che può essere oltrepassato solo con una scala e se la scala non c'è chiese patricia oh l'aveva già preparata ne intravedo i montanti da qui la giovane donna gemette se scappa non rivedrò più mio figlio nel frattempo i poliziotti chiamavano da sotto victoire stava scendendo ma già oras gridava la scala signori al primo piano la porta di fronte sporgendosi dal davanzale spianò il fucile non lo uccida supplicò patricia non sapremo più dove è mio figlio ah non abbia timore sparerò una gamba si sentì lo scatto del grilletto non ci fu né un rumore violento né una detonazione ma solo un sibilo leggero in fondo al giardino comunque e cheggiò un urlo di dolore seguito da gemiti velmont scavalcò il balcone aiutò patricia a superarlo e la sostenne nella discesa fino a terra utilizzando alcuni pioli di ferro fissati sulla facciata e che formavano una scala superarono facilmente i tre muretti ai piedi del quarto oras illuminò con la torcia elettrica un corpo disteso che si agitava sei tu mafiano il polpaccio destro è piuttosto malconcio eh non è niente i miei pallettoni sono sempre sterilizzati nell'autoclave e ho una cassetta di pronto soccorso mostraci la gamba ferita dai la mano delle grazie ti medicherà patricia bendò abilmente la leggera ferita mentre velmont perquisì con prontezza le tasche le tasche di mafiano fatto esclamò contento ti ho in pugno caro mio possiedi già la tua carta di socio grazie a patricia e queste sono quelle di mccallermy e di fields che hai fatto rubare a new york chinandosi ancora di più su di lui pronunciò con durezza rendici il bambino e ti restituirò la tua carta della carta me ne frego bellamente balbettò mafiano errore ragazzo mio ti importa e come questa carta che porta il tuo numero d'ordine nell'associazione è l'unico titolo per partecipare alla spartizione del bottino realizzato se non puoi esibirla al momento convenuto non conti più come socio e di conseguenza non partecipi agli utili sei in trappola coniglietto è falso protestò mafiano mi conoscono laggiù dirò che la carta mi è stata rubata ci vogliono prove nella fattispecie la testimonianza di patricia o la mia non avrai né l'una né l'altra è il crollo delle tue speranze dimentichi che il bambino è in mano mia e me lo tengo oh niente affatto ce lo riporterai domani e faremo lo scambio do ut des do ut des e sia disse il ferito dopo una breve esitazione hai capito bene insistette velmont se domattina alle nove il bambino non è qui in buona salute brucio la carta stupido patentato come vuoi che faccia mi hai fracassato la gamba non posso muovermi ah è vero beh adesso patricia ti medicherà di nuovo poi ti riposi tranquillo e domani sera verremo a prenderti e andremo tutti e tre a liberare il bambino d'accordo d'accordo patricia e velmont lo trasportarono in una piccola rimessa vicino al muro in gombra di sedie e poltrone da giardino lo distesero su un divanetto rifecero la medicazione e uscirono dalla rimessa chiudendo la porta a chiave poi rientrarono in casa è scappato disse orassa al brigadiere che guidava i poliziotti maledizione come diavolo ha fatto a lasciarselo scappare tuttavia non abbiamo perso tempo da che parte è fuggito dai giardini ha scalato il grande muro di cinta cercate pure se volete ovviamente le ricerche della polizia furono vane al rientro il brigadiere interrogò ras velmont chi è lei signore quello che in prefettura chiamate quel tale il poliziotto lo guardò con curiosità senza fare alcun commento e la signora chiese miss patricia johnston giornalista americana di passaggio a parigi il brigadiere se ne andò con i suoi uomini quella notte velmont dormì in uno studiolo attiguo alla sua camera occupata da patricia il giorno seguente trascorse senza incidenti victoire servì loro un eccellente pasto e conversarono come vecchi amici nelle prime ore del mattino velmont aveva portato cibo e abbondante acqua al prigioniero febbricitante per la ferita poi fece la siesta per prepararsi a una notte che forse sarebbe stata movimentata perché non si fidava della parola di mafiano avrebbe restituito il piccolo rodolfo la sera oras e patricia ritornarono alla rimessa oras aprì la porta e lanciò un'imprecazione alla luce della torcia elettrica verificò che la rimessa fosse vuota l'uccellino aveva preso il volo nessuna traccia di lui la serratura chiusa a chiave non sembrava essere stata forzata la scala era al suo posto davvero in gamba quei tipi disse oras sorpreso devono essere passati dalla villetta vicina chi ci abita disse patricia a nessuno ma si sono serviti dei due passaggi segreti che vi ho fatto costruire uno si apre al pian terreno l'altro al primo piano in camera mia l'ha visto ieri sera nella sua camera da letto sì lo sa bene quella in cui ha dormito questa notte non ha visto o sentito nessuno passare da lì ah nessuno d'altra parte se ne sarebbe accorta poiché l'apertura è contro il letto che stupido non è così e qual è la sua ipotesi non ipotizzo nulla lo so per certo patricia è stata lei a liberare mafiano lei trasalì e cercò di sorridere a che scopo signore la tiene in pugno a causa di suo figlio è riuscito in qualche modo a minacciarla è un ricatto all'amore materno seguì un silenzio imbarazzato patricia pallida con gli occhi bassi sembrava sul punto di mettersi a piangere Horace aveva puntato la luce della torcia su di lei e la osservava con attenzione dopo un istante ripeté pensieroso la tiene in pugno a causa di suo figlio lei non rispose Horace si riscosse fece schioccare le dita poi senza aggiungere altro uscì dalla rimessa cantichiando un motivetto ironico alcuni minuti più tardi dopo essersi ripreso volle parlarle di nuovo per conoscere le sue intenzioni ma la cercò in vano in giardino e in casa patricia era scomparsa conoscere le sue intenzioni in giardino e in casa cultivare un situati